Io non so perché Azix Ma se tu dovessi prendere un canale in mano Penso che varrebbe chiuso nell'arco Di 10 secondi Assolutamente si Beh l'importante è esserne consapevoli No Non ho neanche un locker nei dintorni Mi hanno chiuso il locker di fiamma Ciao Frank buonasera No Jeff Bezos se ne va d'affanculo Finchia holding W like not tomorrow questo eh Uh agilità Però si è incastrato un po' Drop Dimmi che non è spawnato il god dal centro qua Perché tilto ok Uno dei Dei più rari pallet Se mi spawnava qui Tiltavo forte Nice Ho un grande problema da killer Dopo un cese Non ricordo mai Dove su stanno facendo i gen Game sense Devi abituarti col game sense Dai Questo game che sia quasi completo Non mi piace molto So che ho Fa la tua scelta Ma dato che non voglio lasciarlo Comunque gratis Il save Almeno l'hit me lo voglio prendere Anche perché sono in tre A fare il save Quindi è un thread Comunque per questo Puso la torcia Abbiamo il parco apposta Per vederti Dove cazzo mi son tipato Ehi e tu Da dove cazzo Sei uscito fuori tu Oraccia Spacchiamo qua Ok Sono tutti feriti Continuando a prendere Sugli scourge Qualcuno è in basement Gusti Non credo che ci rimanga Però in basement Anche se lo superirei Ti provo Chiaramente no Ho girato male la visuale L'ho girata un po' troppo Se la giravo leggermente meno la prendevo Ho fatto un po' più di strada Nel necessario Eh bravo Brella Comparsa Voleva farmela grabbare Cioè voleva farsi grabbare Così che poteva usare La flashlight L'altro Dove cazzo sono andati tutti Senti dopo a qui Quella è comparsa A me sembrava comparsa Ed è GG Ciocchiamo qua Troppo lento Non lo so Comunque vorrei qualcosa Che ti velocizzasse Per entrare in chase Un po' con questo Ravolgimento Fa la tua scelta Era semplicemente una scelta Non c'è spugna Vabbè ci sta Mi sembrava correre più veloce Al momento Comunque questo buff Che li hanno fatto è veramente tosto Cioè è veramente strong Si sente In mappe così grandi Fare questa strada Normalmente ci avrei messo Non c'è anni Non c'è anni Non c'è anni Ma 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 Si arreza Make your choice Si è dalla piga 0 Comunque dovrebbero eliminare secondo me Almeno quando sei in Nightfall Il rumore di quando entri dentro un locker Non ha veramente senso Che gli indica dove sei in pratica Quando gli atterri vicino Sì, sdraga, esatto Con la mag Con la Quello del carattolo Tutto il game Questo era il 99 Comunque è sceso dallo 0 Ciao Cesar Sapete perché il campionale piace a tanti Perché è un killer spettacolare Spettacolare al massimo Spettacolare Infatti è scritto spettacolare Bannate Cesar per favore Ti ruba le battute Non posso farlo Ciao I diritti d'autore Mi chiesto è navega veloce Wow One fucking lucky Chi fa le battute peggiori C'è una bella gara Solo perché mi hai fatto un flashlight save Ti merito di morire Ne è venuta in mente Una talmente pessima Poverina Lasciala No Non si lascia nessuno andare A meno che non sto facendo Adept o simile Ma che ti lasci Sono punti sangue Cruizen Ma guardate ragione Che comunque non aveva comparso Perché il mio cagnolino è così forte Sentiamo Ragnar Grazie a tutti